Innanzitutto scusate per il ritardo con cui uscirà questo video, però ragazzi finita la partita ho preferito dormire visto che questa mattina mi sono alzato alle 3 e mezza, sono andato a lavorare, ho preferito dormire finita la partita il video uscirà penso, credo, intorno alle 9, video molto semplice di 3 minuti dove parliamo della partita dell'Inter Inter che ha fatto una prestazione della Madonna vincendo per 2 a 0 contro il Bayern Monaco doppietta di Eder, sinceramente nemmeno io me l'aspettavo, 2 gol quasi identici, il primo veramente molto bello di testa sul cross di Candreva incredibile Candreva ha azzeccato un cross, applausi per Candreva, clamoroso Perisic il secondo cross, è stato da panico, il secondo gol ha fatto un cross Perisic perfetto che ha detto praticamente se non lo fai sei scarso, Eder che l'ha buttata dentro, però il primo gol veramente molto bello di Eder controbalzo di testa l'ha messa sotto l'incrocio, veramente un bel gol, che tra l'altro me lo sono perso perché sono arrivato in ritardo però vabbè a parte questo, partita è giocata benissimo, si vede già un bel fraseggio, si vede già la mano di Spalletti è vero che il Bayern praticamente ha preso sberle da tutti, però è pur sempre il Bayern Monaco aveva non tutti i titolari ovviamente, però aveva pur sempre Lewandowski, Gozze, Oggiozze, fate come vi pare Hummels, mi pare che c'era Hummels, mi sembra di sì e tanti altri raga, aveva Tolisso che l'ha appena preso a 40 milioni comunque c'era qualche buon giocatore, a parte il portiere non c'era Neuer, c'era Uri, Urek, Tolico come si chiama quindi sicuramente non era il migliore dei portieri, però l'Inter ha dimostrato di giocare bene anche Nagatomo e D'Ambrosio hanno giocato bene, quindi oggi tutti, hanno giocato bene tutti Scrinia ragazzi ha fatto un partitone incredibile, un partitone incredibile, applausi per Scrinia ma anche per Miranda, Borca Valera in mezzo al campo domina, non corre tanto ma lo conoscevamo Borca Valera non è stato mai un corridore, però si vede che smista i palloni, ci sa fare si vede che è tatticamente intelligentissimo, condombia da paura, cioè se questo qui è condombia tanta roba pressa sempre il portatore di palla, quando la palla non si intestardisce con mille dribbling qualche volta rischia la giocata e qualche volta, e rari volte, ci può stare perché i numeri ce li ha però non è il condombia dell'anno scorso, non corre più a vuoto che corre per tutto il campo sa chi deve pressare, quindi già qua si vede la mano dell'allenatore pure Der oggi molto bene, assolutamente la partita di gol ma ha corso tantissimo Pericce raga, a parte gli ultimi 15-20 minuti finali, ha fatto una partita devastante Joe Mario, Joe Mario sinceramente sapevo che era forte, però non così forte nel senso che tecnicamente è fenomenale, si vede, ancora ha tanto da migliorare sicuramente però tecnicamente si vede che ha grandi grandi qualità e speriamo che le faccia vedere e con il cavolo di numero 10 che gli abbia dato un po' più di responsabilità poi per il resto, sì pensi di aver nominato tutti, credo, a meno che mi sono dimenticato qualcuno ma credo di no, quindi nel complesso partita perfetta di tutti, andandoci impegnato zero volte, anzi una volta, su un tiro di Miranda praticamente, un tiro sforco Andanoic ha fatto una parata che non so nemmeno io come ha fatto pararla sta per fare un autogol, Miranda clamoroso niente, questa è che diciamo che è stata la partita che ho visto io oggi un'Inter bella, un'Inter cinica quando c'era da essere cinici un'Inter che gioca da Inter, finalmente speriamo che non sia solamente per le amichevoli estive, magari in campionato possiamo un flop estremo ma credo di no perché Spalletti è un grande allenatore e lo sta dimostrando anche da questi amichevoli con il Leone ha giocato bene, oggi ha giocato benissimo e speriamo che con il Chelsea giocare bene, certo giochiamo dopo domani i giocatori hanno meno il tempo di riprendere il fiato ma vabbè a parte questo, se si perde, chi se ne frega l'importante è vedere un bel gioco fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questa partita cosa ne pensate di questa Inter che avete visto oggi qui da Smatti è tutto, lasciate un mi piace, un commento iscrivetevi al canale se non l'avete fatto i social sono sempre in descrizione bella